Ennesimo femminicidio oggi a Terni, dove una donna è stata uccisa in casa nel pomeriggio. Il dramma in zona Borgo Rivo, in Umbria. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita dal marito con alcune coltellate, sferrate al culmine di una lite. Il compagno della donna è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine arrivate sul posto per gli inquirenti, sarebbe stato lui ad ucciderla. A chiamare soccorsi il figlio 25enne della donna è sospettito da una telefonata che lo ha messo in allerta.